Excel è un'inesauribile miniera di possibilità. Contiene funzioni, funzionalità, strumenti che cambieranno il nostro approccio alla realtà lavorativa. Ci permette di risparmiare molto tempo, soprattutto padroneggiando alcune scorciatoie e conoscendone in maniera più approfondita gli avventurosi meandri. Per esempio, sapete che posizionandovi su una cella di una tabella che contiene alcuni dati e schiacciando il tasto F11 sulla vostra tastiera il sistema produce in un nuovo foglio un grafico. Questo grafico è facilmente modificabile intervenendo o attraverso la barra multifunzione, in particolare con la scheda progettazione che consente di spostare il grafico magari accanto ai dati, con pochissimi movimenti e in maniera estremamente semplice. Inoltre è possibile, andando a cliccare sul comando cambia tipo di grafico, tradurre la nostra presentazione dei dati con una forma differente, per esempio a modello di torta. Intervenendo poi sui comandi laterali è possibile con pochissimi passaggi andare senza nessun calcolo, senza la necessità di svolgere nessun tipo di operazione, a impostare la visualizzazione dell'incidenza percentuale. Tutto con una semplice scorciatoia e se dobbiamo salvare un'altra scorciatoia può salvarci veramente, forse non la vita, ma sicuramente farci risparmiare un sacco di tempo. La scorciatoia F12 che ci traghetta immediatamente nella schermata di salva con nome. Questo e molto altro si può scoprire in maniera semplice, guidata, intuitiva, proprio con un corso.